In questo momento è la volta dell'associazione culturale Eleonora d'Arborea di Oristano diretta da Antonello Manca. Guadagnano l'ingresso anche gli amici di questa corale che arriva da un capoluogo di provincia della nostra regione, si posizionano alle mie spalle e avranno modo di interpretare Bellanna sul testo di Giorgio Stefano Ricci e musica di Antonello Manca che è anche il direttore del Sodalizio. Come vedete qua di fronte a me c'è una scultura che ovviamente è il trofeo, è proprio l'immagine, il simbolo di questa manifestazione ambita perché sarà il riconoscimento finale di questa lunga giornata che vedrà davvero alternarsi tante formazioni. Sto prendendo qualche secondo per dare la possibilità a tutti di posizionarsi e di lasciarli quindi all'ascolto dell'associazione culturale Eleonora d'Arborea di Oristano diretta da Antonello Manca Applausi. Grazie. Applausi. 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 Grazie. Applausi. 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 Grazie. 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 Grazie.